Il Teramo si rinforza sulle corsie laterali e lo fa con Ioad Ferretti che da ieri è ufficialmente il secondo acquisto biancorosso per questa stagione. Dopo l'arrivo di Piccioni per la prima linea ecco l'esterno 24enne proveniente dalla Ternana che il diavolo ha acquistato a titolo definitivo per lui contratto di un anno. Nonostante la giovane età parecchia esperienza per il difensore che nasce calcisticamente nelle giovanini del Genoa prima del passaggio al Milan che ne controlla il cartellino per qualche stagione e lo manda in prestito al Benevento prima, alla spalla e infine al Matera. Quando il contratto con i rossoneri si siaurisce il Marsigliese, anche se di nazionalità italiana, riparte dall'Albino Leffe in Lega Pro, poi Cremonese e Ternana in Serie B dove nell'ultimo campionato mette insieme 11 presenze seppur giocando complessivamente solo 423 minuti. Il Teramo dunque gli concede una possibilità di rilancio scendendo di categoria a quella che conosce molto bene. Anche considerando che il diavolo sulla destra, perdendo ventola e non avendo per il momento rinnovato il contratto a Sales, doveva mettere un puntello. Difesa che tornerà ad attualità a giorni quando dovranno essere affrontati i nodi relativi a Caidi e per la mediana ad Amadio. Il direttore generale Capaldi ha messo i due chiaramente sul mercato, ma non sarà semplice né trovare un acquirente né tantomeno gli eventuali sostituti. Per quanto riguarda il primo problema, quello di trovare chi è interessato ai due, la questione è relativa soprattutto alla durata del contratto. I due giocatori lo vedranno scadere nel 2019 e per andare via cercano una destinazione che possa garantire loro una prosecuzione almeno fino al 2020. Dunque Bergossi per Caidi e Direnzo per Amadio aspettano che qualcuno bussi alla porta di Campitelli con una proposta biennale per entrambi. Altrimenti la sensazione è che non si muoveranno. Buon per il Teramo, che non sembra essere nelle condizioni economiche per assicurarsi sostituti all'altezza di coloro a cui vorrebbe dare il ben servito. Le trattative infatti vedono tanti giovani, magari anche di prospettiva, ma decisamente non tutti pronti ad affrontare un campionato con il coltello tra i denti. Al netto delle dichiarazioni ottimistiche di Campitelli infatti questa sarà una stagione ancora più complicata della precedente e iniziare con il piede giusto sarà fondamentale. Altro scoglie è quello che riguarda Riccardo Barbuti. L'ingaggio maggiorato conseguenza della spalmatura della scorsa estate rende complicatissima se non impossibile una sua cessione. Senza un'uscita però il mercato subisce un rallentamento per questioni meramente economiche. Intanto in settimana il centrocampista Zenuni e l'attaccante di Renzo, entrambi assistiti da Gianluca Libertazzi, potrebbero firmare l'accordo annuale anche in questo caso con il club bianco-rosso.